Buongiorno a tutti, sono Paolo De Stefano e sono il chitarrista che avrebbe dovuto suonare questa domenica a Cressa, al Museo del Bacco da Seta, per la rassegna Un Paese a Sei Corle. Se non ho capito male doveva essere il concerto di apertura di questa rassegna e purtroppo, viste la situazione, i concerti sono saltati. Quindi, su richiesta degli organizzatori, che ringrazio comunque per avermi preso in considerazione, sono qui a darvi una leggera presentazione di quello che avrei suonato e di quello che era il concetto della musica che vi avrei presentato in questo concerto. Il concerto ha come filo conduttore la mia musica e i miei arrangiamenti, che sono un frutto di ricerca e di lavoro continuo protratto durante gli anni. Io sono tendenzialmente componente di El Du Eterna, quindi un duo di chitarre, ho quasi sempre suonato solo in duo. Questa volta mi proponevo come solista e presentavo delle musiche per chitarra sola che ho scritto io e degli arrangiamenti che ho scritto negli ultimi due anni. Questo lavoro sostanzialmente collega due mondi che apparentemente sono separati nell'immaginario collettivo, ma in realtà io ho cercato di fondere che sono il mondo del jazz e della musica accademica, oltre alla mia passione per la musica sudamericana. Quindi tutta questa cosa si fonde all'interno dei miei arrangiamenti e della mia musica e cerca di portare l'ascoltatore in una sorta di viaggio. Che cosa si può fare per sentire questa musica? Beh, sicuramente attraverso un link che vi verrà postato potrete ascoltarmi suonare un mio brano che si chiama Improvviso, che ho scritto un paio di anni fa, 2-3 anni fa. Oppure potete andare sulla mia pagina Facebook, andare a vedere due dirette Facebook che ho fatto nelle settimane scorse, dove potrete ascoltare una parte del programma che avrei suonato domenica 19. Ringrazio ancora Lidia Domenico e tutti gli organizzatori, Mauro e Patrizia e tutto lo staff di Un Paese a sei corde per il loro impegno anche in questa situazione e speriamo di poterci rivedere presto. Ciao, un saluto a tutti!